Il procuratore generale della Corte Penale Internazionale, Karim Khan, ha fatto qualcosa di eversivo, diciamo così, perché erano settimane che Anthony Blinken, ministro degli esteri degli Stati Uniti d'America, faceva pressioni di ogni tipo, pressioni diciamo blandendo ma anche pressioni minacciose nei confronti della Corte Penale Internazionale per fare che cosa? Per far sì che non emettessero nessun mandato, non procedessero con l'incriminazione di Netanyahu e dei vertici israeliani e non emettessero nessun mandato di cattura. Invece a quanto pare Karim Khan, il procuratore generale della Corte Penale Internazionale, l'ha fatto pazzesco, io francamente non l'avrei mai immaginato. Che cosa ha fatto? Beh, ha incriminato per crimini di guerra e crimini contro l'umanità, cinque persone emettendo un mandato di arresto internazionale. Chi sono queste cinque persone? Allora, intanto c'è il premier israeliano Benjamin Netanyahu, poi c'è il ministro a difesa israeliano Yoav Gallant, perché secondo quanto scrive Khan nel suo documento, riteniamo che i crimini contro l'umanità accusati siano stati commessi come parte di un attacco diffuso e sistematico contro la popolazione civile palestinese in conformità alla politica statale, quindi dello Stato di Israele. Questi crimini, secondo la nostra valutazione, continuano ancora oggi. E basa queste cose attraverso prove raccolte comprese tra interviste con sopravvissuti, testimoni oculari, video, foto e materiali audio, immagini straordinarie e dichiarazioni. Pensate un po'. Aggiunge Khan, Israele ha intenzionalmente, sistematicamente privato la popolazione civile in tutte le parti di Gaza di mezzi indispensabili alla sopravvivenza umana. Più chiaro di così. Dopodiché la Corte Penale Internazionale condanna, non condanna scusate, ma spicca mandato di cattura internazionale e apre il procedimento anche nei confronti di altre tre personaggi. Questi qui sono palestinesi. Il primo è Yahya Sinwar, che è il leader di Hamas, che vive in Qatar. Il secondo è Mohamed Yabib Ibrahim al-Masri, che è il capo delle brigate al-Qassam, quindi il capo militare di Hamas. E il terzo è Ismail Aniek, che è stato per anni responsabile della striscia di Gaza, una sorta di governatore della striscia di Gaza, adesso non è più, è comunque il numero due di Hamas, anche lui in Qatar. Quindi hanno fatto qualcosa di inimmaginabile. Inimmaginabile. Anche perché hanno colpito quella parte di Hamas che si trova in Qatar, cioè quella parte di Hamas che è amica dell'Occidente, che è protetta dal principale alleato dell'Occidente in Medio Oriente, che è il Qatar. Le reazioni scomposte israeliane e statunitense fanno capire che per una volta, non succede spesso, però per una volta la giustizia sembra andare in una direzione giusta. Non ha triunfato perché non è ancora accaduto nulla, ma sembra andare in una direzione giusta. Questo vuol dire che Netanyahu, se ha un mandato di cattura internazionale spiccata contro di lui, non se ne può andare in giro così. Perché rischia, se va in un paese, anche se è un capo di Stato, di essere arrestato. Vi ricordate? Era 30 e qualcosa anni fa, in Inghilterra, nel Regno Unito, venne arrestato Pinochet. All'epoca era presidente del Cile. Quindi, caspia, era arrestato perché era stato mandato, spiccato, un mandato di cattura internazionale ai suoi confronti ed è stato arrestato anche se aveva una carica. Ecco, quello che è successo presso la Corte Penale internazionale ha del quasi inaudito. Beh, vuol dire che le cose ogni tanto possono andare anche molto bene e non è detto che si debba sempre prendere mazzate sui denti. Ciao!